Secondo le statistiche di youtube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie C'è chi guarda i miei video? Ma stagione! Voi, smasso il trattato? Ficcara! Svi, ho pensato! No, ma in giudizio! Calwa, ma a cura è in? C'è chi! C'è chi guarda i miei video? C'è chi? No, ma in giudizio? C'è chi? C'è chi si? E' un'imagine? E' un'imagine qui? No, ma in giudizio? C'è chi? E o no, c'è chi guarda la… C'è chi che ti guarda. E to' guettore? E to' guettore? ...have been promoted. You are now my elite employ- Hey! Ayo, that's- bro, homie, that's rude. Don't make me smack you again. Bro, you don't smack me, I smack you! Yo, get out of here. Get out of here, you rascal. Get out of here. How dare you? How dare you? Bro, no way I gotta start from that. No way police getting involved with local beef. Come on, man. Come on, man. Why? Why the heck the police get involved, bro? This is just between two homies solving a local dispute, okay? Okay, let's get out of here. I'm going to drink. I'm walking from the house now. Okay, let's get out of here. Cain先輩の前通過. 1人ここにいます. あの,曲がったとこで構えてます. 1人. あ,で,合計3人. 扉のところに合計3人. 角に3人,角に3人. で,1個扉出たとこにもう1人. 効果切れました. 合計4人です. 2人と行きました. 全部飲んじゃいます. 全員強かったけど特にバニーさんやばかった意味じゃんな. いや,あの人は一番,その,生存の勝ち回りが本当にレベル2です. まあ,持ち前の銃のテクニックと,その経験だよね,要は. ああ,なるほど. こういうことか. 多分,本当にここ出たら死ぬっていうのを分かった上で, しっかりと,だから,被弾を抑えた上で当ててくるっていう理想型の形取られてたんで. あれは,やり合いたくないっすよ,やんま,やり合うのも経験を積んで,追いつき追い越せよ. 追い越したいですけど,結構厳しそうですね. でも,やるだろう. いや,もちろん,いつか起こせます. いや,すごい,世界を知り合えたな. デーマして確認しようかなと. ああ,今日どうだった? シマドル. アンブレーラがほぼ来ましたね. え,来たの? 来ましたね,多分,6,9,7,8ぐらいいましたよ. ああ,ということは,やっぱりそっちか,あの人居過ぎて,なんかもう. そうですね,しっちゃかめっちゃか. 3,4回ぐらいしか売れてなかったですよ. ははははははははははは,全然降りないて,ぶち切れてますよ. まじで,わし全貌を持ってたというか,全然ポイント増えてないと思います. いや,そう,あの一応全部みたいなの. アンブレーラ,あの,来たようなところ. はい,だって,3,000,だけ一歩アツエットがあって,そうですからね. ははははは. あれ,めちゃくちゃ面白かった,まじで. あれ,来なかったのって,一生思った思うんだったんですけど. 来たからね,相当きましたよ. ははははははははははははははははははは. ありがとうございました. はいありがとうございました. おい! oi! 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 questo ero che in ome! questo ti sicuro se deve fare oi! oi! il 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 Che cosa c'è? C'è il problema D'accordo D'accordo? D'accordo 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 perché? perché? è stato un giusto? sì il giusto il giusto il giusto che mi ha detto è stato un giusto è stato un giusto Cioè , li faили pure alle dalle Ma io non raggiungo Cioè, lo Harda utilizzata Ho Pio hai Fai Ingin. Off you m cieko ... Sì C'è anche il saluto. C'è un po' di tutti. Ciao poartano a raggiungono allie negli Ci ho gli inchimmi convidati Il quadro . . . . . . . . . Non è vero Allина è corezza contro si più tre quindi l'oziamo a rispetto Come affreverta nelle 중abatt Samuel con스 holidays jacca e di boll Però su FuelO In più a Frozzamassen Betto? At incredible Sì, 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 sì. E? 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 E Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, io non ho stato riuscato. Sì. E' una di quelli che faccia la morte per il vostro amico, e poi scappare con la pasta, e poi vivere in una grande manchina. Situazioni awkwardasne.